La trama, ecco, dovrebbe essere questa, con appunto tre voci da Piazza Iove che fanno questo squillo e quell'altra, il suo vento immediato della voce maschile cospirativa, va bene? Se non si sa pugnare dobbiamo decidere se non si può contare o se non si sa pugnare. Pugnare? Pugnare? Allora va bene, Pugnare! Viva la libertà, deve essere, anche questo, qui c'è stata la prima voce, ma in realtà, viva la libertà, uno scoppio di cannone, o di vent'anni, e poi tutti, se triunfano, ma allegro, se triunfano le connesi, deve essere, non allegro, insomma, spensieratamente irresponsabile. Voi aveste visto quello del successo alla prefettura due domeniche fa, capiresti perfettamente che cosa voglio dire. Viva la libertà, deve essere, anche se triunfano le connesi, deve essere, anche se triunfano le connesi, non andranno mai giù. Viva la libertà, deve essere, anche se triunfano le connesi, deve essere, anche se triunfano le connesi, non andranno mai giù. Viva la libertà, deve essere, anche se triunfano le connesi, deve essere, anche se triunfano le connesi, non andranno mai giù. E se triunfano le connesi, deve essere, anche se triunfano le connesi, non andranno mai giù. E se triunfano le connesi, deve essere, anche se triunfano le connesi, non andranno mai giù. Ci siamo nella rete, deve essere, anche se triunfano le connesi, deve essere, anche se triunfano le connesi, e se triunfano le connesi, non andranno mai giù.